Arriviamo a una parte sul brevetto, anche se il corso è sul diritto d'autore ho comunque ritenuto utile darvi almeno i principi generali sul brevetto in modo tale che mettiamo a fuoco che cosa non è diritto d'autore e che cosa è brevetto, perché c'è spesso appunto il pericolo della confusione tra i due istituti. Già adesso in qualche esempio che abbiamo fatto ogni tanto io sottolineavo come avete notato che lì siamo nell'ambito del brevetto, quella non è una creazione è un'invenzione. Quindi vediamo un attimo appunto giusto tre slide, quattro slide di principi generali sulla brevettazione. Una prima definizione di brevetto, allora più propriamente bisogna parlare di brevetto per invenzione, è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento di un'invenzione in un territorio e per un periodo ben determinati e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione. Quindi parliamo di una invenzione industriale, quindi non di una creazione intellettuale come invece abbiamo fatto fino adesso. Per invenzione si intende quindi che cosa? Una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico. Ok, questa è la definizione fonte wikipedia, quindi questa è la definizione che utilizzo proprio per i miei corsi anche super divulgativi per giusto far capire di cosa stiamo parlando. Adesso andiamo un po' più sul giuridico e vediamo quali sono invece i requisiti per la brevettabilità, cioè che cosa deve avere un'invenzione affinché possa essere oggetto di brevetto. E diciamo tradizionalmente sono questi per la legge italiana i cinque requisiti per la brevettabilità, ovvero la novità, l'attività inventiva, l'applicazione industriale, la liceità e la sufficiente descrizione. Ok, prima abbiamo parlato, quando io vi ho detto qual è il requisito per il diritto d'autore è uno, è il carattere creativo, punto. Poi la scienza giuridica l'ha scomposto in originalità e novità. Per il diritto al brevetto, per ottenere il diritto di brevetto invece questi sono i cinque requisiti. Notare anche quello che vedete qua, liceità. Posso fare un brevetto per un farmaco che aiuta al suicidio? No, in Italia no, perché già di per sé sarebbe illecito. Posso fare un brevetto tecnologico per, che ne so, per le mine anti-uomo che permetta di far scoppiare meglio le gambe dei bambini dell'Afghanistan? Ovviamente no, perché c'è un discorso di liceità. E poi il quinto punto è quello che spesso fa la differenza dal punto di vista economico, cioè la sufficiente descrizione. Voi, non so chi di voi, magari è stato mai coinvolto come ingegnere in un'attività inventiva di brevettazione. Quasi sempre la parte più costosa in un'attività di brevettazione è la redazione della documentazione che poi dovrà essere presentata all'ufficio brevetti all'atto della registrazione. Cioè gli uffici di brevetti, cioè gli uffici che fanno consulenza su brevetti, sono quasi sempre composti da sia ingegneri e legali specializzati nell'ambito della brevettazione i quali si fanno pagare a botte di 500 euro all'ora per confezionarti il brevetto in un modo che sia il più solido possibile, ok? E che non venga ad esempio rigettato subito dall'ufficio brevetti oppure che venga accolto ma poi sia oggetto di reclami, di ricorsi vari. Quindi la documentazione di questa, cioè al di là dello studio tecnico, ingegneristico e scientifico che sta dietro un brevetto per arrivare a questa soluzione c'è poi tutta una parte che magari noiosa e puramente amministrativa, burocratese, che però richiede una corretta descrizione di questa invenzione, ok? Questo permette appunto che il brevetto poi venga accettato e correttamente implementato, correttamente difeso poi nella durata dei vent'anni. E da questo schema solitamente riesco a sgombrare con questo schema le principali confusioni tra i due istituti giuridici. Lo vedete, ho messo da un lato il diritto d'autore o copyright e dall'altro il brevetto. Quindi ci aiuta anche un po' questo schema a ripassare quello che abbiamo detto fino adesso sul diritto d'autore. Vedete che l'oggetto della tutela in un caso è opera dell'ingegno di carattere creativo, nel caso dei brevetti abbiamo invenzioni, che è il caso più comune, più ampio, oppure anche i modelli di utilità, la componentistica della tecnologia, degli elettrodomestici, automobili, che dicendo, e le varietà vegetali, questa è una novità degli anni 90, anche le varietà vegetali, quindi le forme di vita, però le forme di vita vegetali e non animali, sono oggetto di brevetto. Si è pensato a Monsanto e all'OGM, tutto questo mercato che genera una marea di soldi. Si potrebbe fare anche sugli animali, si potrebbe anche creare il brevetto su forme di vita animale. È una scelta etica quella di non aver spinto la scienza in quella di... Finora, esatto, non sapremo in che direzione andremo, però ok. Per adesso è possibile brevettare lecitamente, quindi con il requisito della licenità, anche forme di vita vegetale. Il meccanismo per acquisire il diritto, ecco, questo è un altro caso di ampia diversità tra i due istituti giuridici, cioè il diritto dottore è automatico, io divento titolare del diritto dottore con la semplice creazione dell'opera, l'abbiamo detto più volte. Col brevetto no, io finché non ho depositato il brevetto e non ho, come dire, il timbro sulla ricevuta dell'ufficio brevetti, io non ho titolo per sfruttare esclusivamente quella invenzione, quindi non ho un diritto. Quindi il brevetto tendenzialmente lo si tiene il più possibile segreto fino al momento della brevettazione, nel momento in cui si brevetta in realtà viene pubblicato automaticamente, perché l'ufficio brevetti espone quello che tu hai brevettato. Quindi quando si pensa che il brevetto sia associato al segreto, al segreto industriale, in realtà è un grande equivoco, perché il brevetto da questo punto di vista è esattamente l'opposto del segreto, perché io quando brevetto devo rendere noto a tutti cosa ho brevettato, in modo tale che loro sappiano che quella cosa lì non la possono fare per vent'anni, o se la vogliono fare devono passare da me e chiedere il permesso. Questo è il senso del brevetto. E' consigliabile tenerlo nascosto, perché non è più nuovo, perché torniamo al nostro requisito, vedete che c'è novità, se questa cosa l'ho resa pubblica, sono dato ai convegni, l'ho raccontata in giro a tutti, allora dicono, ma allora grazie, potremmo farla anche noi. Quindi fino a quel momento deve essere tenuto sotto chiave. E quindi vedete che i requisiti per la tutelabilità, nel caso del diritto d'autore, in realtà il requisito è sempre un lui, è sempre unico, cioè il carattere creativo, che è scomposto poi dalla scienza giuridica in originalità e novità. Nel brevetto, abbiamo già visto, sono attività inventiva, novità, licetà e applicazione industriale, e sufficiente descrizione che qua non ho messo. Il titolare originale dei diritti, allora tendenzialmente, nel diritto d'autore, l'abbiamo detto prima, salvo alcune eccezioni che dopo vi faccio vedere, è quasi sempre l'autore, cioè colui che crea l'opera è il titolare originale dei diritti, poi per contratto può cedere il diritto a un editore, ad un produttore e via dicendo. Nel caso del brevetto, visto che il brevetto, il diritto nasce, nel brevetto il diritto nasce con la registrazione, col deposito, è colui che si fa carico di questo deposito. Quindi raramente è il vero, è il singolo inventore, è l'ingegnere che ha fatto, il quale rimane comunque, ha comunque un diritto morale a essere citato come inventore da un punto di vista intellettuale. Ma dal punto di vista dello sfruttamento del diritto, è colui che ha messo i soldi e che ha depositato il brevetto. Facciamo l'esempio del famoso motore, il motore quello inventato da Fiat negli anni 90, il diesel nuova generazione, il J Multijet. Il motore Multijet era un ingegnere di Bari, non vi ricordate? Era un italiano, però poi di fatto il brevetto era di Bosch, cioè che cedeva le licenze per fare poi il motore a tutte le altre varie case di produzione che volevano un motore di quel tipo, era Bosch. Adesso è scaduto anche quel brevetto lì, sono passati perché era il 96-97. Lui avrà preso la sua quota all'inizio, esatto, è stato pagato per le ore di lavoro, per la competenza, forse anche magari per una piccola cessione di diritti all'inizio, ma poi basta. La durata della tutela è sostanzialmente diversa, sostanziosamente diversa, perché sono 70 anni dalla morte dell'autore nel diritto autore e 20 anni dal deposito, punto. Dopodiché l'opera, scusate, l'invenzione diventa di pubblico dominio e quindi tutti possono implementare con la stessa soluzione tecnica, senza dover chiedere permesso a nessuno. Ci sono addirittura casi in cui già si sostiene che 20 anni siano un'infinità, perché se voi pensate ai brevetti software, appunto, che in Europa tendenzialmente non sarebbero autorizzati, non sarebbero possibili, ma negli Stati Uniti si fanno, è assurdo concedere un brevetto per 20 anni sul software quando il software tendenzialmente in pochi anni diventa obsoleto per sua natura. Ma tanto di fatto è un diritto che non interessa più a nessuno, anche se hai 20 anni... Beh, insomma, nel mondo software assicuro che c'è una battaglia, affinché le case di produzione software vogliano... Ma in Europa hai 20 anni, perché se li fanno per reale? Ma, allora, se voi andate a vedere le cause che si sono fatti Apple e Samsung sono delle cose di un livello ridicolo, cioè che di invenzione c'è davvero pochissimo, ma è solamente, passatemi il termine, la pisciata territoriale per dire questa cosa l'ho fatta prima io, l'ha fatta prima tu, l'ha fatta prima lui, e allora adesso mi devi pagare, cioè sono battaglie da avvocati, cioè lì di invenzione c'è davvero zero, di scienze, di tecniche, di avanzamento della scienza tecnica c'è poco, sono solo giochi tra avvocati per gente che può permettersi tutti gli anni di registrare 50 brevetti senza neanche preoccuparsi della qualità di questi brevetti. Però ecco, questa è proprio la deriva più patologica del brevetto. Il brevetto da strumento che era nato con un approccio nobile nel Settecento per incentivare la scienza, incentivare l'inventiva, in questo modo diventa un modo per bloccare l'inventiva, perché se tu sei Apple o sei Google e ti puoi permettere di registrare brevetti, diciamo un po' così a casaccio, perché tanto registrare 50... Esatto, diventa un modo non tanto per spingere all'innovazione, ma per bloccare l'innovazione di tutti gli altri. Il brevetto è consentito di fare un brevetto, anche se uno poi non lo usa mai? No, esatto, c'è la possibilità, certo, però intanto l'alto deve invalidartelo. Cioè, qua parliamo di soggetti che hanno la forza economica di registrare brevetti con una, praticamente, tipo... Siamo scontri a dire la Samsung che fa le sue televisioni, no? Scopre l'inventore che ha inventato un sistema che fa televisioni che manderebbe in fallimento tutta la sua catena di produzione, cosa fa? Che se più in umantia la compra, poi la ferma di... Anche? Certo, certo, tant'è che una delle teorie sull'energia rinnovabile, ad esempio, è che i brevetti più interessanti in ambito di energie rinnovabili, in realtà se voi andate poi a risalire le varie holding che hanno messo il capitale, siano in mano alle aziende del petrolio. Quindi pensa un po' che è strano, le aziende del petrolio sono quelle che hanno un pacchetto di brevetti, un pacchetto di brevetti interessanti nel campo delle energie rinnovabili, oppure semplicemente di potersi giocare a questa carta quando ritengono che sia opportuno. Loro dico, io brevetto, però finché riesco a vendere il petrolio ad una certa cifra faccio finta che questa invenzione non la voglio sviluppare. Quando comincia il mondo a cambiare e sta un po' succedendo forse adesso, ecco il discorso delle auto ibride, allora magicamente io divento l'innovatore che gioca la carta del brevetto sull'energia solare o via dicendo. Queste sono un po' le cose che si dicono, poi bisogna fare un'analisi un po' più... Il caso che si è realizzato, il drone, intanto per Erg, chiude la parte petrolica, se non l'ha già chiusa adesso, c'è tutto un discorso di cessioni, per buttarsi sull'energia rinnovata. Probabilmente aveva già in pancia qualche brevetto interessante, oppure nell'ambito del software, delle tecnologie, è un caso... Cioè brevettare per sbarrare la strada ai concorrenti è la prassi comune. Ripeto, qual è il discorso? Che i brevetti costano... l'ultima riga del nostro schema, no? Il copia rete gratis, il brevetto costa un sacco di soldi, quindi... perché... allora, depositare un brevetto in Italia costa... la fee amministrativa che pago è di qualche migliaia di euro, una sciocchezza. No, ma sono migliaia però. No, ma non solo quello. Il problema è che ci sono i costi di redazione, della documentazione, che vi ho detto che se si fanno pagare 500 euro all'ora, pensate quanto ci vuole. A volte si parla di 50.000, 600.000 euro per fare un brevetto. Ok? Più tutto il lavoro... E qua sto parlando solo dei costi amministrativi e di redazione. Più tutto il lavoro di inventiva vera che c'è dietro. Quindi, questa gente... ci sono soggetti che sono sufficientemente grossi dal punto di vista economico, che possono... a loro mettere 100.000 euro ogni mese per fare un brevetto, a loro non costa nulla, non fa differenza. Ma allo stesso tempo, invece, la piccola start-up che magari ha il brevetto forte, che magari è davvero sotto a un'idea interessante, si trova terrorizzata e bloccata dallo svilupparlo perché si trova di fronte a un mostro del genere, il quale gli manda la lettera di difida dopo due giorni, questi qua, ovviamente, essendo una piccola start-up locale, si paralizzano, no? Oppure, l'altra strategia è quella di dire, ok, ti compriamo noi, compriamo anche il tuo brevetto in modo tale che poi ti teniamo lì fermo e non ti facciamo sviluppare. Sono strategie, purtroppo, del mondo capitalista che dimostrano come la proprietà industriale intellettuale, che era nata con una vocazione nobile, cioè di incentivare la creatività e l'inventiva, sia arrivata al suo eccesso patologico opposto, cioè di diventare uno strumento che blocca e disincentiva la creatività e l'invenzione. Comunque, questo è un po'... Sì, sì, no, allora, il discorso, il discorso del, anche del software, ripeto, se ne frega, è vero che non funziona. Loro hanno scelto, hanno fatto quella politica lì, certo. Non vuol dire che non rispettano il tuo. Loro hanno rispettato, anche sul marchio, vabbè, la Cina sul marchio notoriamente, cioè la Cina copia, copia il design... E loro lo fanno, tanto loro dicono, noi lo facciamo nel nostro paese, se tu, ingegnere, inventore italiano, vuoi inibirli, puoi farlo, ma devi fare un'azione giudiziaria là, di fronte ai loro giudici, e con il loro diritto, il che potrebbe essere davvero un suicidio. No, è una gigante, sto dicendo che in Europa, in Stati Uniti, in Cannes... Comunque, posso riportare... Scusate, però, se no, non ce la facciamo, scusate. Ok, allora, l'articolo 45 fa un po' quello che abbiamo visto prima, mi ricordate che prima avevo una slide che diceva che cosa non tutela il diritto d'autore, questo è il suo equivalente nel mondo dei brevetti, cioè l'articolo 45 del nostro codice di proprietà industriale ci dice di cosa, cioè che cosa non può essere oggetto il brevetto, cosa non può essere brevettato, e sono questi tre casi. Il primo, al primo ci si arriva anche con la logica, cioè le scoperte, le scoperte in quanto scoperte non sono invenzioni, e quindi non possono essere brevettate. Le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi e i metodi per l'attività intellettuale, i famosi cosiddetti modelli di business, no? Quindi ogni tanto c'è qualcuno, c'è il modello, oppure c'era un altro, per l'attività intellettuale, per gioco, per l'attività commerciali, i programmi per l'elaboratore, le presentazioni di informazioni, i programmi per l'elaboratore è, come dire, è borderline, perché basta andare dalla parte di là dell'oceano, e di là, questa è la legge italiana, perché noi abbiamo una direttiva europea che è stata votata. In Europa il software non può essere brevettato tecnicamente, poi in realtà lo fanno lo stesso, perché l'hanno chiamato in un altro modo, l'hanno chiamato Computer Implemented Invention, cioè invenzioni implementate attraverso il computer. Cioè non stai davvero brevettando il software, ma stai brevettando, diciamo, tutto l'apparato che c'è attorno, però di fatto poi indirettamente agisci anche sul software. Quindi sono in qualche modo riusciti a farle rientrare dalla finestra. Però il principio è che in Europa non si possa brevettare il software puro, cioè l'algoritmo o il codice, ok? Secondo punto, i metodi per il trattamento chirurgico-terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Vi ricordate che anni fa c'era, qualche anno fa c'era il dibattito sul famoso metodo di Bella o metodo, che era l'altro genio, quello di Brescia, il metodo Stamina. Il metodo Stamina, che poi sono stati più o meno verificati come inefficaci, però a quelli c'era la voce che ci fosse un diritto sopra, che fossero brevettati, che solo lui potesse, in realtà non so che quale diritto potessero vantare perché la nostra legge è abbastanza chiara su questa cosa. Il metodo Stamina, se fosse stato davvero così efficace, qualunque altro medico avrebbe potuto tranquillamente replicarlo senza dover rincorrere in una violazione di qualche brevetto. A differenza di una molecola o di un farm? Non c'entra nulla, certo. Quello è un farm. Quello è un farm. Sì, no, infatti lì non si capiva. Perché magari c'era il segreto professionale. Esatto. Infatti, guardate il primo proprio esempio di questo secondo punto, il metodo per il trattamento chirurgico. Cioè, se un chirurgo trova un nuovo modo per operare le aorte, quindi è l'unico che ha scoperto che si può tagliarle in un certo modo, piuttosto che tagliarle come invece si è sempre fatto. Lui non potrà mai impedire ad altri di fare quello stesso tipo di operazione attraverso uno strumento giuridico. L'unico modo che lui ha è, come dire, tenere segreta il più possibile questa informazione e non diffonderla e non condividerla con nessuno. È un caso molto difficile da verificare perché nessun chirurgo può operare da solo. Non ha un diritto dottore. No, il diritto dottore è tantomeno perché non è un'opera creativa, un'operazione chirurgica su questo assolutamente vi rimando alle slide di prima. Ma non di può, posso finire un attimo perché altrimenti perdo il filo. È tantomeno appunto il metodo di trattamento chirurgico. Finisco con l'ultimo punto che abbiamo già in realtà citato. Non possono essere oggetto di brevetto le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questo, ripeto, è, diciamo, la barriera a questo terzo punto è di natura etico-scientifica. Cioè si è scelto di non farlo, ma si potrebbe tecnicamente farlo. Come si fa sul DNA vegetale, si può fare sul DNA animale e anche umano in teoria. Ma quindi l'embreo transfer dell'antecola d'ordine? E infatti è stato fatto come esperimento e poi hanno detto di non farlo più. L'ha fatto una volta... Non è stato brevettato, era un esperimento scientifico quello. Chiunque poteva copiare loro, se non lo fanno vedere a nessuno, ma chiunque avrebbe voluto. Indubbiamente, infatti l'hanno rifatto. Senza incorrere in nessuno. Anzi, come dire, la vocazione della scienza è proprio quella di essere riproducibile. Cioè un esperimento scientifico è solido se chiunque altro può riprodurlo e verificare che porta a quel risultato. Quindi credo che loro avessero... La visione degli animali è di fatto una cosa che, voglio dire, c'è. C'è, ma non puoi brevettarla. Io sto dicendo questo, ok? Che poi ci siano... Probabilmente hanno fatto anche quella umana. Probabilmente non lo sappiamo, ok? Quindi, chiuso il discorso sulle requisite di brevettabilità. Nella nostra legge, nel nostro CP, sta per codice proprietà industriale, e anche nel codice civile, perché è stato ripercorso lo stesso più o meno articolo, si parla anche di modelli di utilità. Vediamo brevemente di cosa si occupa questa norma. Dice che l'articolo 82 del codice proprietà industriale prevede che possano costituire oggetto di brevetto per modello di utilità, quindi non sono proprio brevetti per invenzione, ma appunto una sottospecie del brevetto, che si chiama brevetto per modelli di utilità, i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o di parti di esse, strumenti, utensili, ovvero oggetti di uso in genere, quali nuovi modelli consistenti in particolarità con formazioni, disposizioni, configurazioni e combinazioni di parti. Continua dicendo che per essere protetto con modelli di utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo ed originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. È a volte difficile distinguere un modello di utilità da un'invenzione. Molti considerano il modello di utilità come una piccola invenzione, un'invenzione minore. Si dice anche che si ha un'invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha un modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente. Questa è una spiegazione che ho trovato sul sito dell'ufficio italiano Brevetti e Marchi, quindi ho fatto un banalissimo copia e incolla citando la fonte. Più di questo non mi viene da dire sui modelli di utilità, a meno che qualcuno di voi mi dica che lavora in questo settore, però è più appunto legato alla componentistica e alla progettazione di macchine e impianti, componenti di impianti e cose del genere. Basta, sui brevetti direi che non mi sento. In un corso come questo non mi sembra il caso di andare oltre.